A brindisi presso la Camera di Commercio un seminario dal titolo Smart Puglia 2020 presentazione del bando Living Labs della Regione Puglia proposte valutazioni di soluzioni smart nel settore dell'energia fornite non di meno dal Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia. L'obiettivo del seminario? Illustrare le politiche in tema di Smart Cities e presentare il bando Living Labs finalizzato a creare una città innovativa che risponda alle reali esigenze del cittadino chiamato a sentirsi un co-sviluppatore. Progettare, realizzare quindi quelle soluzioni smart in una regione come quella puliese che risulta essere tra i territori più solleciti a livello europeo sulle tematiche legate alle Smart Cities e alla realizzazione di soluzioni innovative. Promuovere quindi le città intelligenti con nuovi modelli di mobilità e responsabilità. L'evento di oggi riguarda essenzialmente la presentazione di due programmi di ricerca rivolti alle piccole e medie industrie e agli enti pubblici che sono orientati alle Smart Cities. Le Smart Cities, come sapete, sono l'ultima frontiera di quella che sarà in futuro un'organizzazione completamente diversa della città, un'organizzazione ottimizzata in tutti i suoi servizi, sia sociali che energetici che dei trasporti e questo è l'obiettivo finale che si propone questo programma.